Io chiudo parlando di Enrico Petrella. Enrico Petrella è stato un grande compositore italiano, scrisse 25 opere di cui la più fortunata fu Ione, sul libretto di Giovanni Peruzzini. Ambientato durante l'eruzione del Vesuvio a Pompei, di Ione, rimase famosa la marcia funebre del quarto atto che accompagna Glauco al supplizio, poi interrotto dall'eruzione del vulcano. Questa marcia è tuttora eseguita nel repertorio delle bande musicali. Una novella di Gabriele D'Annunzio, la contessa da Malfi, narra le vicende accadute a Pescara intorno al 1865, in seguito alla rappresentazione dell'opera omonima di Petrella. Fu l'operista di punta dell'editore Lucca che tentò di contrapporlo a Giuseppe Verdi, sostenuto da Casa Ricordi. Con questa marcia da diversi anni si usa chiudere la processione dei Sacri Misteri e chiude anche il concerto di questa sera. Grazie a tutti. Ione di Enrico Petrella. Grazie. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.